Dal 17 al 24 di maggio ci sarà la settimana della bonifica, un'iniziativa che vede coinvolti tutti i dieci consorzi di bonifica Veneti e noi siamo all'interno di uno degli impianti che sarà proprio aperto al pubblico durante questa settimana. Ne parliamo insieme al presidente e direttore rispettivamente del consorzio di bonifica Adige Euganio. Diamo il benvenuto a Michele Zanato, presidente, e a Tiziano Greggio. Allora cominciamo dal presidente, quindi questa sarà una delle strutture che i tanti visitatori avranno modo di conoscere durante questa settimana. Ma questa iniziativa quale scopo ha? Questa iniziativa ha lo scopo di far conoscere la bonifica ai visitatori. Lei ha detto speriamo siano tanti, speriamo proprio siano tanti i visitatori perché il problema che abbiamo noi come consorzio di bonifica è che la gente non sa a cosa servono questi impianti. Questo è un impianto che si trova a Pozzonovo, nel comune di Pozzonovo, si chiama impianto Caggio Vannelli. Questo impianto porta via l'acqua del centro cittadino di Este che si trova a 20 km di distanza. Questo è il compito che è il consorzio di bonifica e questo noi vorremmo far conoscere con queste settimane della bonifica a tutti quanti. Speriamo ci siano un grande afflusso. Ecco, so che saranno coinvolte in particolare, direttore, anche le scuole. Sì, noi abbiamo un'iniziativa che è partita ancora da 5-6 anni che la ripetiamo ogni anno in cui cerchiamo di avvicinare i ragazzi delle scuole primarie e secondarie al mondo della bonifica e a guardare con occhi diversi il territorio. Quest'anno abbiamo due iniziative in particolare, una che è in collaborazione con la Regione del Veneto e la nostra Unione Regionale Veneto e Bonifiche che è anticipata rispetto alla settimana della bonifica che è il 9 maggio in cui ci saranno le presentazioni da parte di circa 500 studenti, sono in tutto quanto il Veneto, che presenteranno dei prodotti multimediali che hanno fatto sul mondo della bonifica. Noi invece come Consorzio Adi Giuganeo abbiamo il 24 che è di domenica mattina che faremo la premiazione di un concorso scolastico che abbiamo in collaborazione con Lega Ambiente e lo faremo su questo impianto qua, su quello vampadore di Migliadino. Dobbiamo decidere ancora il luogo. Grazie direttore. Ma Presidente, questi sono dei motori ancora funzionanti? Sì, certamente, questi impianti sono ancora funzionanti grazie alla continua manutenzione che noi facciamo come Consorzio di Bonifica. A questi impianti aggiungiamo degli nuovi impianti che si trovano sotto, che come abbiamo visto in altri posti stiamo restaurando e affiancando ai nostri impianti, questi sono del 1926, affianchiamo delle nuove pompe elettriche telecomandate e telecontrollate, perché questi comunque hanno un'operatività solo di emergenza quando abbiamo bisogno anche di questi motori li facciamo funzionare, altrimenti funzionano le pompe elettriche che sono molto più veloci a funzionare. Grazie Presidente. Direttore, torno da lei. Quindi la settimana della Bonifica è un modo per avvicinare il pubblico, i cittadini, alla realtà della Bonifica che non serve solamente agli agricoltori, l'abbiamo già detto forse più volte, ma credo sia giusto ricordarlo. Sì, l'attività di Bonifica storicamente ha costruito il territorio su cui noi viviamo ed è assolutamente limitativo pensare che sia a servizio solo dell'agricoltura, anzi i problemi più grossi dal punto di vista idraulico ormai li danno i centri abitati, le aree urbanizzate, i grandi centri commerciali o le grandi urbanizzazioni. Il consorzio è a servizio di tutto il territorio, quindi svolge anche funzioni ambientali o paesaggistiche perché la stessa conformazione, la stessa strutturazione che dà del territorio la presenza dei canali e dell'acqua è un elemento fondamentale soprattutto in queste aree qua che sono quelle in cui siamo adesso che sono ancora scarsamente urbanizzate. So che parte ovviamente dei proventi al consorzio vanno per pagare, possiamo dire, la bolletta dell'elettricità. Sì, il nostro consorzio è un consorzio che ha praticamente l'80% del territorio che è a bonifica meccanica quindi ha bisogno di impianti di pompaggio e di sollevamento. Ne abbiamo 58 simili a questi oppure più grandi o più piccoli. Ne abbiamo 58, ci consumano all'incirca 8 milioni e mezzo di kilowatt all'anno per smaltire l'acqua. A questi aggiungiamo 39 impianti irrigui che là fanno un'opera di sollevamento dai fiumi demaniali e quelle ci consumano altri 1 milione e 500 mila kilowatt all'anno. Questi 10 mila kilowatt di consumo annui, per cui siamo grossi utenti, grossi consumatori di energia elettrica, costano al consorzio come il 20% del suo bilancio annuale. Quindi siamo sull'ordine dei 2 milioni, 2 milioni e 100 di euro all'anno. Ricordiamo che senza la bonifica forse queste terre sarebbero delle paluti, Presidente. Sicuramente senza la bonifica, visto che l'80% del nostro territorio è di flusso meccanico, queste terre sarebbero per gran parte dell'anno degli acquitrini paludosi. Ed è per questo che noi serviamo al territorio. Ricordiamo agli amici che ci seguono da casa che potranno trovare tutte le informazioni del programma della settimana della bonifica sul sito del consorzio. Su quello dell'Unione Veneta Bonifiche, sui quotidiani locali e speriamo sulle televisioni. Esatto. Che dire, la bonifica vi aspetta dal 17 al 24 di maggio. A presto.